Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Non mi voglio dilungare con l'intro perché ragazzi è successo È arrivata una tempesta e io non sono per niente pronto ma sapete che cosa vuol dire? Significa che possiamo evocare i creeper caricati Quindi ragazzi ho iniziato subito a fare la rec Perché dobbiamo subito metterci al lavoro, tornare qui nella pianura e cercare di catturare dei creeper Abbiamo provato a fare questa cosa qualche episodio fa Mio dio c'è anche un pochettino di lag a quanto pare Questa 1.13.1 non è così sistemata rispetto alla 1.13 devo dire Ma insomma dobbiamo riuscire assolutamente a catturare dei creeper Fintanto che rimane la tempesta e in questo modo cercare di caricarli Per esempio lì c'è un creeper Posso provare subito a lanciargli il mio tridente Vado, ok, l'ho evocato, yes, è diventato Charged, yes ragazzi Lo dovremmo però catturare, mettere in una pozza e dargli un nome In modo da essere poi pronti Guardate quanti ce ne sono Ragazzi mi stanno falciando i mob, sono davvero tantissimi Cavoli, raga Ragazzi, cioè ho una full protezione Totale, diamante Ho messo anche la corazza ora Mi stanno facendo malissimo talmente tanti sono Ma, ma possibile Ok, meno male che sono stupidi si ammazzano anche tra Di loro è appena caduto qui un fulmine È caduto qui un fulmine, raga Vediamo, speriamo che non vada a fuoco tutto Sta laggando come una bestia il gioco Mio Dio, cosa sto vedendo Allora, lì c'è un Charged Creeper Devo cercare in qualche modo di catturarlo quel creeper Non posso lasciarlo lì, sennò è tutto inutile E mi serve un secondo creeper Come, come diamine facciamo? Allora, troppo questi fottuti scheletri Rendono tutto molto, molto più difficile Diamine, lì c'è un creeper Aspetta, c'è un creeper Ok, ok Ho evocato il Charged Creeper Facciamolo esplodere Vieni Facciamolo esplodere Fallo esplodere Vai, esplodi Esplodi Scappo No ragazzi, non esplosa Esplodi Devi esplodere, brutta merdina Ok, esploso Ha ucciso? Ha ucciso qualcuno? No ragazzi, ho fatto un danno incredibile E poi aspetta Non mi sono portato le targhette Per la fretta Ho fatto un casino Ho bisogno che questo zombie mi raggiunga Devo fare esplodere il creeper Allora È morto? È stato ucciso da uno scheletro Ma madonna ragazzi Che casino che c'è Allora, devo fare così Indeboliamo gli zombie Uno Due Se ti tiro un'altra botta Non muori? Ok, perfetto Ora sono shottabili Cerchiamo di attirare il creeper Creeper Ti prego, vieni Vieni creeper Vieni creeper Arriva il Charged Creeper Vai, facciamolo esplodere Facciamolo esplodere Raga Facciamolo esplodere Vai esplodi 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 Ok, li ha uccisi Li ha uccisi raga Ce l'abbiamo fatta? Sì 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 Ragazzi ce l'abbiamo fatta Senza targhette Senza cose Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio È appena finito il temporale What? Ragazzi È stata pura follia Non ero pronto A fare tutto ciò Non ero pronto Mai nella vita Mio dio Abbiamo Abbiamo droppato La testa dello zombie Ce l'abbiamo fatta Oh santo cielo È stato Davvero pazzesco Ragazzi io non so neanche Che cosa ho commentato Qui Che cosa ho detto Durante il video Perché è stato Un casino assurdo Ma avete visto Mi laggava tutto Innanzitutto Era pieno zeppo di mob Lì in pianura E gli scheletri Facevano un casino Perché Aggravano I mob Contro se stessi Perché frecciavano male Facciavano davvero un macello Tra l'altro Che cosa ho visto qui mo Scusate un attimo Ma Perché Per quale cazzo di motivo Ci sono Degli iron golem qui Ragazzi Perché ci sono degli iron golem C'è un altro qui Ma che Ma che succede Ok ragazzi Cerchiamo un attimo Di ricomporci Cerchiamo Un attimino Di ritrovare una quadra Tutto ciò Abbiamo finalmente Droppato La testa Dello zombie Ho fatto un miracolo Per dropparla Adesso ce ne manca Solamente una Praticamente Perché guardate Abbiamo la testa Dello zombie È indossabile Ed è Un oggetto Davvero Molto Molto raro Di cui essere Assolutamente fieri Abbiamo qui la nostra Collezione di teste Possiamo mettere lo zombie Ci manca lo scheletro Purtroppo la tempesta Era finita Se no ci avrei tentato Così al volo Ma non ero per niente pronto A fare questa cosa Ma proprio per nulla Ora Non so io quanto Abbia registrato Tutta sta cosa Ma Non saprei neanche Che cosa fare Nella puntata Perché mi ha colto Alla sprovvista Sta tempesta Avevo ben altri piani Inizialmente È arrivata una tempesta E ho dovuto fare Questa cosa Tra l'altro Diamo una controllata Perché io ho visto Cadere qualche fulmine E il fulmine Ha colpito Più o meno In questa zona Per fortuna Non c'è niente Di infiammabile Qui Però potevamo fare Davvero dei danni Incredibili Perché se mi colpiva Il faro O peggio la nave Io non vedo fuoco Da nessuna parte Quindi sembrerebbe Che sia Andata di lusso Perché Se fosse Bruciato qualcosa Sarebbe stato Un grossissimo Problema Comunque ragazzi Cerchiamo un attimo Di capire Per quale fottuta ragione Ci sono degli Erongolem in giro Anzi Prima di tutto Andiamo a dormire Mio dio È l'episodio Meno organizzato Che io abbia mai fatto Tra un po' Sono tipo Ero totalmente Nel pallone Adesso ci ricomponiamo Dormiamo E cominciamo con calma A questo punto Ci possiamo anche Occupare Di cose Secondarie Come appunto Stavo dicendo Questa farm Che a quanto pare Fa spawnare I golem Di fuori Per qualche strana ragione Oppure Non so Si generano Si generano qui Per altri motivi Ma non capisco Non ha alcun Fottuto senso Io direi Mio dio ragazzi Tra l'altro qui c'è Un sacco di materiale Non me lo aspettavo Neanche Proviamo a togliere Tutte quante le rose E aspettiamo Se troverò In futuro Altre rose Vuol dire Che la farm funziona Altrimenti Si è buggata Di nuovo E per qualche motivo Si è bloccata Ora fatto sta Che avere Dei golem In giro Non va bene Perché se questi golem Stanno a zonzo Significa che Vabbè a parte che li devo Purtroppo ammazzare A mio rischio pericolo Perché Mi farebbero molto male Se mi avvicino Ma appunto Se ci sono altri golem In giro Non spawneranno Nella farm Ce ne sono ben tre In giro Quindi Il villaggio Che viene simulato Dalla farm di ferro In questo caso È ipoteticamente Già protetto Quindi Quindi la meccanica Di minecraft Non vedrà senso Nello spawnare Un altro golem Quindi ragazzi Dobbiamo ucciderli E poi aspettare Ma ce n'è un altro lì Ma Che Quanti cazzo Ne stanno comparendo Ma scusa Una volta io avevo Spawnato dei golem Per difendere la base Ed erano scomparsi E mo mi compaiono a caso Mi prendi in giro Davvero Cioè ragazzi Ce n'è un altro Qui fuori Oltre a questo Che cazzo Tra l'altro Quanto male mi può fare Un golem Sapete che Cioè con questa armatura Quanto male mi fai Non mi fai niente Non mi puoi toccare Mamma mia Signor golem Lei è molto debole Rispetto a me Mi spiace Comunque Erano questi quattro Credo che non ce ne siano Altri in giro Ed è comunque Davvero strano Perché Al di là del fatto che Appunto Avrebbero Ma c'è un creeper pure qua Ma ragazzi Ma che cazzo succede oggi Cos'è sta roba Cioè Gente Mob in giro a caso Stavo dicendo Sicuramente avevano bloccato la farm In questo modo Ma non mi spiego Perché siano spawnati fuori Dalla loro zona O che con la 1-13-1 È cambiata qualche dinamica Altrimenti Non me lo spiego Perché si Si debba essere Buggata così Da un momento all'altro Questa cosa E tutto ciò mi fa capire Che questa base È davvero antica E inizia E inizia ad avere I suoi acciacchi L'affare Che non funziona Io che faccio Buchi per terra Con i creeper Magari prende fuoco Qualcosa Insomma Iniziano a fioccare i problemi E pian piano Si accumulano Perché Tutto ciò L'ho costruito Nell'arco degli anni Quindi Riparare cose vecchie Anche di molti anni Non sarà Per niente semplice Ci sono C'è così tanto Da fare Ci sarebbero Davvero da fare Altri 500 episodi Qui per sistemare tutto In teoria Ho alcuni progetti Per l'episodio a venire E anche per questo episodio Li avevo Visto quello che è successo Visto l'improvvisata Della tempesta Adesso il problema Con i golem Che andrà un attimo Analizzato Purtroppo di nuovo La farm ci dà problemi Possiamo fare Due cose Per completare la puntata Al di là del fatto Che queste rose Le dovrei piantare Nel giardino qui fuori Ma lo abbiamo già fatto Tante volte insieme Magari risulta noioso Quindi probabilmente Lo farò per conto mio Un'altra cosa Che mi avete suggerito Di fare E a cui non ho mai pensato È Ragazzi Pensate un po' Dare un nome Alla freccia Con il nostro arco Noi Abbiamo infatti Bisogno di un'unica freccia Perché abbiamo infinity Tutte queste frecce extra Che mi hanno droppato Gli scheletri Non ci servono Assolutamente A nulla Quindi Non sarebbe bello Dare un nome All'unica freccia Con la quale Uccidiamo tutti i mob Così come Tutti i nostri oggetti Le nostre armi L'armatura Hanno un nome Per ciascun pezzo Io ho letto Queste idee nei commenti Mi è piaciuta un sacco E volevo quindi Farlo insieme a voi In un episodio Ovviamente Non potevo fare Un episodio dedicato Ed era una di quelle cose Che mi tenevo da parte Per i ritagli di tempo Visto quello che è successo Visto quello che è successo oggi Calza pennello Perché ne possiamo parlare E possiamo fare questa cosa Allora ragazzi Intanto Mi tocca anche Sottolineare Come Dragon Stayer Si è molto più consumato Del previsto Non credo durerà Ancora tanti episodi Vi dirò E quindi ben presto Dovrà riposare Nel tempio degli archi Lo abbiamo recuperato Sono molto contento Di tutto ciò Ma Non possiamo tenerlo Per sempre E ben presto Dovremmo appunto Considerare anche Di creare Un nuovo arco Perché Non abbiamo molta scelta Ma ragazzi Rinominare una freccia Non è un grosso problema Ci costerà solamente Un livello Come vedete Ho anche qualche livello In più dell'altra volta Perché ho iniziato a Livellare un pochettino Freccia Che ha già un nome Ragazzi Non vi ho neanche consultati Perché nel momento stesso In cui mi avete dato l'idea Nel momento stesso In cui ci ho pensato Ho già immaginato Quale poteva essere Il suo nome E il suo nome sarà Sunlight Spia Significa Esattamente Lancia Solare La lancia Solare Voglio vedere se qualcuno Di voi nei commenti Lo sa Ma in realtà Ve lo sto per dire È uno dei miracoli Del gioco Di Dark Souls Che cosa vuol dire E perché Ho deciso proprio Questo nome All'interno di Dark Souls Ci sono questi miracoli Che sono Diciamo Tra virgolette Delle magie Che Un incantatore Tra molte virgolette Sto usando termini Per chi non conosce il gioco Può castare E utilizzare Quindi immaginate Di lanciare un fulmine Dalla mano Come se foste Zeus Quella è la lancia solare Ed è la versione finale Di questo ipotetico fulmine È una lancia Forgiata Con delle anime Molto Molto potenti E si narra Che questo miracolo Sia creazione Di Gwyn Quindi Tutto ciò per dire Che questo attacco speciale Rappresenta La forza del sole Impugnata E scagliata Contro il nemico Ci può essere qualcosa Di più figo Probabilmente no E inoltre Le nostre frecce La nostra freccia Unica freccia Quando viene scagliata È per l'appunto Infuocata Ed è proprio questo elemento Che mi ha fatto ricondurre Il tutto subito Alla lancia solare E più lo dico Più in realtà Per una volta Mi piace di più Il nome in italiano Sapete Sunlight Spear Facciamo gli italiani Questa volta Vado a cambiare il nome E la chiameremo Esattamente lancia solare Perché comunque suona bene Devo dire la verità Forse perché è solare Mi ricorda anche Soleil Che non c'entra molto Però Mi suona bene Quindi lancia solare sia Sbam Questa volta Non si torna indietro Lancia solare Spero che abbiate apprezzato L'idea E spero che vi piaccia Anche questo nome Fatemi sapere Che cosa ne pensate Nei commenti E ragazzi Scusatemi se l'episodio È stato un po' improvvisato Un po' caotico Ma dalla prossima puntata Torneremo a organizzarci A meno che Non ci sia Un altro temporale In quel caso Impazzirò E darò la caccia A uno scheletro Perché è l'unica testa Che ci manca Quindi ragazzi Detto ciò Noi ci salutiamo Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti